Io, Aurelio De Laurentiis, in qualità del presidente Napoli Calcio, devo dire una cosa riguardo a Carlo Ancelotti. Io quando l'ho preso l'ho preso solo per un motivo e il nostro contratto parla chiaro. Lui è venuto a Napoli solo ed esclusivamente per mangiare il panettone. Stop. E quindi? Qual è il problema? Non c'è bisogno della cazzim, caro Carlo Ancelotti. Il panettone lo mangi. Non ti preoccupare. Dai retta a me. Eh, calessi un'effessa.